Hi hi È un cavallo SIIIIIIIIIII VAI 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 iii iii SiIIIIIIIII mm inventory Duقي Sei malato della dingo È la dingo victchure flavio È la dingo victchure minutes mer**a m*****a 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 m*****a. Vec000 mogli pubblicizzette vedi io penso tu mette davanti per izordare i romp ebbi bene la è iniziamo E poco tu non regni Mi spieghi quel coso Cioè cos'è? Guarda l'imparta Va bene Tra poco devo andare a scuola Sfigato E ma Primo vuole fare una lotticina con noi Andiamo 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 a lavorare E dirò E dirò Sono Cino Sarà me No condizzi Ti ucciderò per questo E forse è uno dei best video so far Hai visto un mio amico di scuola? Peccato E tu l'hai visto il suo amico di scuola? Io non vedo proprio la scuola Guarda quanto è brutto Giebel Che problemi ha? Non lo so è spasticissimo Adesso vedi chi mi uccide si Oh no E invece? Ma basta Non tu Coso Ehi Devo per entrare in una grotta spooky Surgente fluida Da chi fluide? Come faccio a chiamare Cash? Se non avverto che sto tornando a casa Lui mi mangia la poltrona E vai Uccidi di tutti E E viva Portiamo ora gioia Veramente pensavi che Cash fosse il mio amico Ha ha E chi è Cash? Ah non lo so Via Ghiacciolo 1 Ghiacciolo Accidente qui la mia vena artistica è congelata Lo sai che qui da estate freddo e in inverno si gela Andiamo in Via Ghiacciolo 2 dai Che dici? Ehi E vive Ghiacciolo Bella lì Comunque coso Botti in testa E testata S-s-s-seria Guarda Ah no aspetta Dai io lo faccio fare aspetta No perché poi ti picchia Testata Testata Che quant'è ignorante Te non hai testata Una caniata No no adesso andiamo su per i numeri Cambiamo il nome di Botti in testa E in testata Sono un insettologo E sono un maniaco degli insetti Faccio? Dica Ormai l'hai fatto partire ma Dopo ti invito a guardare la cascata D'accordo Quanto brutto? Tanto In una scala da 1 a B sharp Senti peggio? Ok Cosa? Eh Hai visto come ha chiamato Encore? Applausi Applausi Ah dai Cosa? Si Facco quello Un sur Scritto Hai visto? No vai a guardare bene le cascate Eh Cosa noti di sbagliato? Tutto? Perché deve fare le cose a caso Sto qui? Perché Beh Erano altri tempi No eh E un tempo le cose si facevano a caso Aiuto 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 Uff Impara mente locale Mente locale Mir lucamente locale Ma 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 lo sguardo Se lo sapete l'inglese non traducete per favore Flavio guarda bene Ok adesso guarda la magia eh Aspetta Nella magia del Natale Serve bene la mappa Barbatrucco Oh eh Bianco Ho fatto comparire dei cuscini Perché poi? Perché sono un mago Ma perché dei cuscini? Non ti piacciono i cuscini A chi non piace con i cuscini? Scusa Sono una brutta persona Non è che non mi piacciono? Ma Perché dei cuscini? Sono una brutta persona perché non ti piacciono i cuscini I pokemon di tipo ghiaccio sono i migliori Io sono zero Anche se penso che tu Già lo sappia Ma ora basta parlare Lottiamo Oh strano Un congiuntivo corretto Ciao Rocco Rocco Si è caduto in basso però Eh che bella Ma perché nella palestra a ghiaccio ci sono i pokemon d'acqua? Me lo spieghi? Ah 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 Come faccio? E sai lui è uno starter Quindi se voglio Oh quello lì lo catturerei No Ok Dai se ne incontra un altro lo catturiamo Eccolo Cosa o come lo chiamiamo se lo catturiamo? Io ho un'idea Ok E lo chiamiamo E lo chiamiamo Cusci Wow Ho perso Ti meriti proprio questa medaglia Ti dà talmente tanti soldi Applausi Su Africa E tutti i bambini Tutti i bambini poveri Tutti i bambini bisognosi Ricordiamoci che Che il nostro amico Eh Sevent in the tube Sta portando avanti una campagna In favore dei bambini bisognosi E ora che siamo sotto Natale Vi invita A versare Tutti i vostri soldi Sul suo conto corrente Ma se tipo finissimo con questa parte Per favore Sarebbe anche ora Mi stanno esplodendo i polmoni No no Mi sta esplodendo la crusca Ciao amici